Salve a tutti i maledetti! Sono già un paio di giorni che si parla di questo Fertility Day, chi è a favore, chi è contrario, chi è indignato. Dai su, le solite reazioni da social. Cosa dovrei dirvi? Primo metto il link dove leggere il programma del Fertility Day sul mio canale Telegram, ma ragazzi non è che ci voglia molto per trovarlo. Unico problema è che a noi piace ricercare, ma a poco, il giusto per farci un'idea che ci sembra adatta all'argomento in base a cosa ne pensa chi di solito la pensa come noi. Per questa campagna io suddividerei il tutto in due punti. La volontà scritta, cioè il programma derivato dalla volontà del Ministero della Salute di voler sensibilizzare rispetto a alcuni punti cardini importanti della conoscenza in relazione all'argomento Fertility Day e la campagna marketing per sponsorizzarla. Primo punto, il programma. Ragazzi, come sempre, il problema non è mai, e ripeto, mai la conoscenza e la successiva, si spera, coscienza di un qualsiasi argomento. Ci mancherebbe altro. E se si legge il programma, si nota proprio questo. I punti, cioè in ogni città, si discuterà di un argomento in relazione alla fertilità e non dovete scopar per forza perché qua i figli sono pochi, oddio, madonna, santo Dio. Non è questo. Si parla della medicina pubblica che può sostenere la fertilità, si parlerà di sterilità, si parlerà di quanto incida l'età rispetto alla fertilità. E i problemi causati dalla stessa, perché ragazzi, non è che siamo immortali, non è che puoi fare un figlio a 70 anni e non pensare che esistano dei problemi. Non essere consapevole di questo. Puoi farlo, puoi fare quello che ti pare, ma l'importante è esserne consapevoli. E questo voleva fare, almeno negli intenti, il Ministero della Salute, cioè vorrà fare il 22 settembre. Ma in questo modo, con il secondo punto, cioè il marketing, non solo non stai spiegando a nessuno quello che tu avevi auspicato, cioè una conoscenza per poter far scegliere liberamente sotto coscienza, ma al contrario stai usando una retorica da campagna quasi fascista che è abberrante. È come dire, a me piacerebbe portare a conoscenza l'importante del mangiare bene e tenersi in forma se si vuole avere un'aspettativa di vita maggiore. È una scelta. E nella campagna marketing, per promuoverla, ci metto un ciccione con su scritto PANSONE PERCHE NON MANGI DE MENO? Oppure per la giornata sulla conoscenza e la coscienza della droga, fare cartelloni con su scritto DROGA DI PEZZO DE MERDA. La campagna marketing è completamente sballata, sbagliata e vi dirò, lo sbaglio fa sì che quello che volevi fare di buono l'hai buttato nel cesso, almeno per ora. Perché sappiamo tutti che la colpa, quando la campagna marketing toppa completamente, teoricamente è di chi non si informa, ma praticamente è il tuo. Ora non ho idea se l'intento era quello di scandalizzare tutti i costi per far parlare dell'iniziativa, ma ne dubito, in questo modo il 22 hai dato solo adito a chi ti sta contro, a livello politico, di scegliere addirittura di poter andare a protestare, magari in uno di questi posti, dove si stanno svolgendo queste attività di conoscenza di una determinata materia, di un argomento interessante ed utile, dato che nessuno ne parla anche mai. Ho sentito poi gente che dà notizie sul web parlare di Fertility Day, parlando del motivo principe per cui esiste, cioè una crescita di giovani a livello demografico nel nostro paese che porta bla 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 bla, parlando appunto della campagna, cioè una cagata stratosferica, ma non dicendo nulla sul come, anzi, asserendo che non è con questi cartelloni che ci fa venire voglia di procreare, dovresti dirci come sostenerci bambini. Giusto, ma il programma, vero, quello senza proclami dementi da marketing ritardato, te lo vorrebbe anche dire. Parla di Fertilità, non parla di quello che stai dicendo te, facendo capire che quel programma neanche lo hai letto, ma, ehi, è evidente che qui su internet si debba puntare più sulla sensazionalità che non sulla puntualità del contenuto, e lo so che voi lo guardate, lo so bene. Alla luce di questo, il marketing di merda di questa campagna non è più così pessimo, non trovate? Bello a tutti, statemi iscrittamente bene, il vostro VicLeib.